Una vittoria netta, limpida e indiscutibile quella di Giovanni Formica a Milazzo, un successo che è apparso chiaro sin dall'inizio dello scrutinio e che ha visto via via allargarsi la forbice tra il candidato ufficiale del centro-sinistra e il sindaco uscente Carmelo Pino. Alla fine 9.295 preferenze per Formica pari al 62,1%, mentre Pino si è fermato al 37,8% con 5.657 voti personali. Un dato che ha premiato la proposta amministrativa di colui che da subito si era presentato come l'alternativa alla giunta uscente. Devo ringraziare Milazzesi per questa giornata straordinaria che corona un percorso faticoso che noi abbiamo gestito nell'arco di un quinquennio e poi chiude una fase della nostra vita e della nostra vicenda politica che in campagna elettorale ci ha visto impegnati sui contenuti e credo che questo abbia pagato. I cittadini milazzesi ci danno fiducia, noi non tradiremo la loro fiducia. La prima cosa sarà contattare il presidente dell'autorità portuale per discutere insieme a lui delle sorti dei 27 lavoratori della compagnia portuale che in questo momento rischiano di perdere il lavoro ed il reddito. Sono nostri concittadini che da 25 anni sono impegnati nel nostro bacino portuale. A loro dobbiamo dare una mano per cercare di fare in modo che non perdano il lavoro. Pino non recrimina, accetta la sconfitta e guarda avanti. Probabilmente era necessario più tempo per poter comprendere il lavoro che è stato fatto in questi anni che è stato, come ho sempre detto, un lavoro impopolare e senza dubbio non compreso, aveva bisogno di tempo per poter essere assimilato. In ogni caso lasciamo un comune in buone condizioni economiche.